Si è tenuto presso il Parco Stella del Mattino a Vallo della Lucania l'evento Martucci Pop Assembly, una serata culmine all'insegna della musica, organizzata dall'Istituto Musicale Goitre e che si inserisce in un quartellone di eventi intitolato Armonie sotto le stelle. Le manifestazioni sono state organizzate magistralmente dalla direttrice dell'Istituto Musicale Goitre Santina di Vita, una serata sold out che ha visto la musica protagonista di una vera e propria rinascita. Musicale Goitre in collaborazione con il Conservatorio Martucci di Salerno, questa sera ospiterà nella Kermess musicale di Armonie sotto le stelle la band di Pino Mango. Diciamo che questa band è quadruata dal maestro Rocco Petruzzi che era il suo pianista. vedremo sia delle nuove generazioni che appunto si apprestano al genere di Mango, però vedremo poi uno special guest che sarà comunque una sorpresa per tutti. Siamo contentissimi perché è stato un evento nonostante le restrizioni e quindi il protocollo sanitario da seguire ha avuto sold out. Armonie sotto le stelle è in pratica un insieme di concerti che cambiano tutti i generi di musica, si va dalla musica classica alla musica pop, jazz. Abbiamo già fatto un bel po' di eventi, si sono conclusi l'altra sera con la triade jazz che ha visto protagonisti qui a Vallo della Lucania, i fratelli Deida, i fratelli Scannapieco, insomma dei gruppi di vera qualità. Dopo questo spettacolo di questa sera sarà previsto uno spettacolo di musica sacra il 25 luglio presso la cattedrale di San Pantaleone che è voluto fortemente da me proprio per dedicarlo al nostro santo protettore. Il 30 invece ci sarà la Dama delle Camelie che è una operetta breve, il 31 un altro concerto pop il cui tributo sarà questa volta a Mina e a Lucio Battisti. Apriremo poi il mese di agosto con un genere diverso, ci sarà la musica popolare e vedrà vari gruppi di musica popolare come la New Band Generation di Altavilla Silentina e poi ci sarà l'8 agosto il maestro Scigliano con l'Orfeo Trio che appunto farà con gli strumenti popolari un genere un attimino più classico. Altri eventi sono in calendario nel mese di agosto, quello più importante è quello che si terrà in questa location il 24 agosto concerto organizzato dal grande Matteo Saggese.